E dai, perché non chiami? Perché non chiami? Ehi, sorella, tutto a posto? Sì, cioè, no. Oh, mamma! Ehi, che è tutta questa ansia? Ethan, da quando mi ha baciato non mi ha più richiamato. Non so più cosa pensare. Forse ci hai ripensato e si è pentito. Stai calma, sono passate solo 24 ore. Sì, ma il problema è che non so come comportarmi. Cioè, quando uno ti bacia dopo, sei diventata la sua ragazza? Oh no, ho paura di sembrare quella che corre. E se non lo chiamo, la menefreghista. Che faccio? Scusate, ho sentito per sbaglio la vostra conversazione. No, no! Scusate, non è mica colpa mia se parlate ad alta voce. Comunque è una fortuna che io abbia sentito. Perché sono un vero esperto in materia. Beh, Lisa, ormai il danno è fatto. Sentiamo cosa ti consiglia il nonno. Ok. Vedrai, non te ne pentirai. Ok, Lisa, una cosa che ho imparato dalla mia esperienza è che in amore vince chi fugge. Ecco, cominciamo bene. E allora cosa dovrai fare? Ignoralo. Ignora le sue chiamate, ignora i suoi messaggi. Non so se è una buona idea. Alzi la mano che è contrario. Fidati, Lisa, più tu li sfuggirai e più Ethan si innamorerà di te. È una tecnica vincente. Ma nonno, tu che ne sai? Sei fuori dal giro da anni ormai. Ehi, guardate chi abbiamo trovato qui fuori. Jackson, che ci fai qui? Ecco, sono venuto a chiederti un consiglio. Sì, un consiglio d'amore. Un consiglio d'amore? Allora stai chiedendo la persona giusta. Sento cielo. Lui vorrebbe chiedere di uscire a zia Louise, ma non sa come fare. Ecco, sì, hanno ragione. Bene, bene, bene. Sei venuto dalla persona giusta. Io so tutto di zia Louise e conosco le tattiche per conquistarla. Ok, cominciamo la lezione. A zia Louise piacciono i vestiti stravaganti, quindi via libera, cappelli e accessori colorati. E gli piace ricevere molti complimenti per questo look. È una persona con molta fantasia, quindi no a persone noiose. Ma io sono una persona molto noiosa e metodica. No, devi cambiare, altrimenti non la conquisterai mai. Oh mamma, è Icam. Che faccio, rispondo? No, assolutamente no. Lisa, non fare la sciocca e rispondi. No, non rispondere. Ok, io rispondo. Oh no, ho smesso di squillare. Molto bene. Allora Jackson, continuiamo. Lisa, vieni di là con me. Ok. Le carne, odia il pesce. Mi raccomando, ricordatelo. Per ultimi, gli hobby. Lei ama molto le telenovelas. Adora gli animali, ma odia i vecchi film. Che invece io adoro. Signor Jackson, a lei piacciono le cose che zia Louise odia. Non so se è una buona idea mentirle. Se vuole conquistarla, sì. Poi, una volta innamorata, cambierà idea su alcune cose. Ok, Lisa, non fare la sciocca e chiama subito Ethan. Ma il nonno ha detto... Ma lascia stare il nonno, che vuoi che ne sappia lui? Quando era giovane non esistevano neanche i cellulari. In effetti... Forza, chiamalo subito. Ok, come ha detto nonno Eresi, a Louise dovrebbe arrivare in questo minimarket. Non so se è una buona idea questo finto incontro casuale. Signor Jackson, bambini, che ci fate da queste parti? Ciao, tia Louise. Salve, Louise. Ah, Becco, vengo spesso in questo minimarket. Ah, davvero? Non l'ho mai vista. Ah, Becco... Si vede che non mi avrà mai notato. Becco, noi andiamo, eh? Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, bambini. Sono un po' strani oggi. Louise, le andrebbe di venire a pranzo con me? Ah, volentieri. Complimenti per la sua borsa. È davvero carina. Oh, grazie. Allora, io ordinerei una bella pasta e poi una bella bistecca, perché il pesce lo odio. Davvero? Anch'io. Abbiamo gli stessi gusti. Già. Sono contento che tu mi abbia chiamato. Davvero? Sì, avevo paura a fare il primo passo. Non volevo sembrare troppo invadente. Già, ti capisco. Kate, non origliare. Shhh, non sento niente. Senti, tra noi le cose sono andate sempre bene, perché erano semplici. Già. Non complichiamocele adesso, con mille paranoie. Voglio essere schietto con te, quindi... Lisa, vuoi essere la mia ragazza? Oh mio Dio, le ha chiesto di essere la sua ragazza! Kate! Allora, vi fermate a cena? Volentieri, mamma. Oh, permesso. Ehi, Jackson, allora, com'è andato l'appuntamento con Louise? L'appuntamento con Louise? Oh, non bene. Come? Ho fatto tutto quello che mi hai detto tu. Le ho detto tutto quello che mi hai detto tu. Ma alla fine mi ha liquidato dicendomi che a lei non interessava stare insieme a una sua fotocopia, ma che desidera avere accanto una persona con gusti e hobby diversi. No, no, la tua tattica non ha funzionato. La sua cosa? La sua tattica d'amore. Ha detto di essere un esperto. Cosa? Ma se ti ci sono voluti mesi per conquistarmi. Sì, ma alla fine ce l'ho fatta. Quando finalmente mi hai mostrato quello che eri veramente. Senza tattiche e imbrogli vari. Lo avevamo detto io e Tommy che non era una buona idea dire le bugie. Senta, signor Jackson, vuole un consiglio? Lasci perdere le pseudotecniche di mio marito. Vada da Louise e le spieghi tutto. Si mostri com'è realmente. E vedrà che Louise ne sarà colpita. E se andrà male, almeno saprà che non siete fatti l'uno per l'altro. Concordo pienamente. Va bene, allora vado. Grazie mille a tutti. Henry, perché devi sempre complicare le cose? Ehi là, ciao a tutti! Ehi là, ho delle facce allegre finalmente. Allora credo che a te sia andata bene. Sì, perché non ha seguito il tuo consiglio ma il mio. In cosa ti è andata meglio, scusa? Cari membri della mia famiglia, vi annuncio che da oggi ho ufficialmente un ragazzo! Cosa? Oh, mi sento male. Ehi Mike! 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 I can't believe someone like me Is here with somebody like you There's something about you and I know why I'm gonna tell you what it is I can believe someone like you 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 I can believe someone like you